Tu vuoi fare i buchi no? eh? eh? Ficci i buchi dopo dai vi che ci sei fra mezz'ora che è successo? è troppo caldo vi che sta da una parte sola no non è possibile non sai che ci faccia così dai va bene ma non è da bene la cucina che stanno facendo eh? il coppio non l'ha come non ha le coppio? forse ha cambiato la protezione ma la cucina Grazie.